Sono convinto anch'io che per quanto riguarda la qualità il nostro olio è nettamente superiore e quindi ne risentirà in maniera sicuramente limitata. C'è però da tener conto del fatto che per esempio già nel 2015 le frodi proprio nei confronti dell'olio sono state estreme rispetto anche al 2014. Cioè quindi la paura qual è? Quest'olio venga imbottigliato in delle bottiglie tinte italiane e noi ci berremo un olio schifoso come fosse un grande olio. Per esempio, e poi c'è anche il fatto che ovviamente andando nella grande distribuzione tutte le famiglie insomma compreranno eventualmente questo olio a menor prezzo, che non si sa che olio come viene fatto, con che pesticidi vengano usati, quindi è anche una questione di salute. I controlli sono inferiori dice Fontana.